Era sfuggito al blitz degli 80 uomini dell'arma dei carabinieri ma è stato catturato nella tarda serata di lunedì, l'ultimo nigeriano che faceva parte dell'organizzazione criminale dedita allo spazio di cocaina ed eroina nelle piazze aretine. EF, trentenne nigeriano richiedente asilo, è stato fermato e trasportato nel carcere di Arezzo. Si chiude così l'operazione Nigerian Connection che ha portato all'arresto di nove nigeriani arrestati dai militari del nucleo investigativo. Uno degli arrestati era stato fermato in fragranza di reato e trovato in possesso di 30 grammi tra eroina e cocaina, suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Definiti anche i ruoli di ciascun componente della banda, alcuni erano dei semplici pusher, cedevano la sostanza e riscuotevano. I clienti, principalmente professionisti e giovani. Altri erano incaricati di tenere i contatti telefonici, di organizzare gli appuntamenti per ricevere gli ordinativi. Altri ancora ricoprivano entrambi i ruoli, occupandosi anche dell'attività di coordinamento dello spaccio al minuto. Un'attività che aveva dunque una vera e propria struttura piramidale, ricostruita dalle indagini dei carabinieri partite dalla Maxirissa dello scorso agosto. Il materiale e le sostanze per il taglio dello stupefacente venivano acquistate online.